ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata sul mio unboxing allora adesso vi faccio vedere le mie card di minecraft l'unica che si trovano si trovano da game stop napoli a fuori allora qui abbiamo la mushroom non è una mushroom qualsiasi è la mushroom d'argentata adesso vi faccio un attimo salutare il saluto ciao a tutti ragazzi siamo su un video di ciro nel canale di ciro di tutto di ciro quindi io sono ospite per far vedere solo il giornale allora questa è la collezione di minecraft spero che la collezionate tutta a me è uscita l'ender dragon è una figata aspetta guarda guarda poi è uscito l'oselart usalo come sfondo che bello che bello guarda è uscito l'oselo questo è lo sfondo e guardate è uscito tiziano ferro oh poi è uscito i poveri eh tiziano ferro i poveri e piccoli slime sono tiziano ferro gioco con i ferro e poi è uscito questo è il medrano attento al giornalismo attaccalo il medrano bravo no bravo bellissimo è il medrano no è il medrano si spezzo e poi come ultima card vi faccio vedere il kaiber che è una carta molto no è una carta molto schifosa e questo invece voglio farvi dire questo invece porta così di ciro non so come funziona no 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 sono i cubi di minecraft lego guardate che figata si aprono si aprono e si mette la roba dentro guardate che figata e vabbè ragazzi per questa montata i cubi di minecraft sono stati belli e ciao raga no 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 Grazie.